Amiche e amici del Corner Sampdoriano, bentornati. Che sconfitta è stata questa della Sampdoria a San Siro contro il Milan? Chiaramente la Sampdoria è in una posizione di risultati, di classifica, per cui non può permettersi, e lo aveva sottolineato Gianpaolo nella conferenza stampa di avvicinamento a questa gara, non può permettersi di considerare già perse in partenza delle partite, partite che non sono alla portata. Evidentemente c'è da provare a scavare punti da tutte le parti perché la classifica urge in questo senso, la vittoria del Venezia ieri sera a Torino ha ulteriormente accentuato questo aspetto, quindi è ovviamente una brutta notizia la sconfitta e il risultato. La prestazione ha avuto delle cose buone e chiaramente delle cose meno buone secondo me si equivalgono sulla bilancia, detto che mi sembra che questa squadra stia intraprendendo comunque l'acquisizione di un'identità. Abbiamo visto delle cose che si sono ripetute, soprattutto nelle ultime due partite, anche se chiaramente l'avversario e il contesto era tutto molto molto diverso. Partita decisa dal gol all'alba della gara ed è un gol su cui, insomma, evidentemente pesa la figuraccia difensiva nell'uno contro uno di Beresinski che sul lancio lungo di Mignan, anche questa è l'altra cosa principale, insomma, l'highlight della partita di Mignan non è una parata ma è l'assist per Leao. Beresinski su quel lancio con la squadra, con la Sampdoria sbilanciata nel pressing per evitare, per impedire, vietare al Milan la costruzione del gioco corto, si sposta tutta nella metacampo del Milan, lascia degli uno contro uno, Beresinski in modo inizialmente anche saggio si prende un paio di metri di vantaggio sul portoghese, ho notato che Beresinski spesso quando si crea del vantaggio di spazio sul avversario tende poi a gestirselo con discreta e spesso troppa calma e pazienza, in questo caso questi due metri non gli permettono di arrivare prima sul pallone rispetto a Leao che poi sgasa con questa specie di stop and go che lascia secco il polacco, gli si apre un'autostrada, forse lì anche poco, diciamo, attenti e poco pessimisti si dice, credo, in questi casi i suoi compagni di reparto nella fattispecie Magnani a pensare che lì qualcosa di pericoloso poteva uscirne, invece Beresinski è stato un po' abbandonato a se stesso, a questa appunto brutta figura nell'uno contro uno con Leao che poi decide la gara. Dopodiché, che primo tempo è stato? Totalmente equilibrato, molto fisico, la Sampdoria ha fatto fatica a gestire i possessi che ha avuto non tantissimi nel primo tempo, ci sono stati un paio di equivoci in questo 5-3-2 che vedeva Candreva Mezzala, Conti tutta fascia a destra e coppia d'attacco Sensi Caputo. Ovviamente il Milan poi ha tolto il piede dall'acceleratore dopo essersi apparecchiato la partita che meglio ama fare con il gol di Leao e quindi non ha creato grossi pericoli nel primo tempo eccezione fatta per il tiro di Messias alla fine dei primi 45 minuti e paratona di Falcone ennesima prestazione top di Vladimiro Falcone che inizia ad avere credenziali pesanti per la titolarità ormai credo che i consensi a suo favore sicuramente dell'ambiente siano totali oggi Audero in panchina l'abbiamo visto inquadrato un paio di volte stando bene tutti e due ora è difficile togliere Falcone dalla porta perché dà sicurezza e fa tutte le cose che deve fare le fa molto molto bene comunque dicevamo il Milan che nel primo tempo ha creato quell'altra occasione appunto con Messias dava comunque l'impressione di poter diventare pericoloso tutte le volte in cui accelerava un po' cosa che invece la Sampdoria ha fatto una fatica tremenda a fare e ho contato credo un tiro in porta in tutta la gara inizio secondo tempo di Candreva il problema nel primo tempo direi che ho visto buone cose da parte degli interpreti della fascia centrale del campo nel senso che Colli e Magnani pur con tutti i limiti hanno fatto una buona gara iniziamo a capire un po' che giocatore è Gian Giacomo Magnani e l'avevamo visto alla Spezia giocare da centrale di sinistra una partita discreta non totalmente convincente soprattutto in fase di impostazione ora abbiamo capito che comunque è un giocatore e non a caso arriva dal Sassuolo dove o meglio arriva dall'Ellas però è passato per il Sassuolo dove insomma un contesto dove i difensori centrali devono giocare il pallone devono prendersi dei rischi e impostare da dietro cercando i centrocampisti e alternare la giocata corta e la giocata lunga Magnani oggi giocando da centrale di destra secondo me ha fatto delle buone letture difensive sostanzialmente era lui a dover duellare quando il Milan aveva il pallone con Giroud ed era lui a doversi prendere l'iniziativa appunto quando la Sampdoria doveva costruire nel primo tempo l'ha fatto meno anche perché c'era Torsby in campo nel secondo tempo soprattutto quando è uscito Torsby ed è cambiata la struttura della Sampdoria con l'ingresso di Ek dalle Viera abbiamo cercato più la giocata corta la palla rasoterra la costruzione dal basso partendo dal rinvio dal fondo dal portiere dai centrali e quindi questa è stata una buona nota è stata fatta con risultati alterni ma diciamo contribuisce a creare quell'autostima e quell'identità di cui dicevamo all'inizio del video fascia centrale del campo dove ha fatto bella figura nel primo tempo Rincon nella fase difensiva nel tentativo di non essere completamente scolastico e banale nel giocare i palloni che gli capitavano ha cercato qualche dribbling qualche giocata in verticale è stato anche ammonito per un pallo su Mignano comunque è un giocatore che è difficile togliere da questa squadra pur rientrando a Ekdal secondo me Rincon come ha fatto poi può anche dare il suo contributo da mezzala sicuramente non potrà garantire tanto tanto inserimento ma sostanza e anche quel po' di personalità e palleggio lo mette in questa squadra quindi difficile farne a meno Sensi partito un po' nascosto poi dalla seconda metà del primo tempo ha iniziato ad abbassare la sua posizione lasciando più solo Caputo ma anche fornendo qualche opzione in più come aveva fatto con il Sassuolo a difensori centrocampisti per permettere alla Sampi di risalire il campo e quindi andando a legare il gioco abbassandosi anche parecchio e l'ha fatto con buoni risultati ci dà grandi sensazioni Stefano Sensi anche se non è riuscito a graffiare nell'ultimo terzo di campo non è riuscito a illuminare oggi con la giocata decisiva però dà sempre l'idea di essere tranquillo di sapere cosa fare nonostante sia pressato nonostante magari venga disturbato da giocatori più prestanti di lui fisicamente però raramente perde palloni e fa sempre la cosa giusta e questo è fondamentale quello invece non fa spesso la cosa giusta in questo contesto di gara e questo rischia di diventare un tema nella Sampiore di Giampaolo Morten Torsby che oggi a mio giudizio è stato un problema le mezzali Torsby e Candreva per motivi diversi Candreva ha fatto fatica a trovare la posizione e a intendersi con Conti sul lato destro non ha funzionato la catena di sinistra Murru Torsby in un primo tempo in cui dicevamo il Milan ha provato a anestetizzare a narcotizzare a addormentare la partita col possesso la Sampiore ha fatto un po' di fatica a recuperare il pallone soprattutto in zone interessanti del campo quando hai questi palloni anche per motivo fisico, atletico e psicologico per guadagnare fiducia a entrare nella partita questi palloni li devi giocare bene se non riesci a essere pericoloso almeno custodirli Torsby dà sempre l'impressione di ricevere palla essere in appanno noto che è molto in difficoltà quando riceve palloni in verticale ed è spalla alla porta a sinistra oggi ha giocato a sinistra si è fatto anticipare un paio di volte è arrivato in ritardo su una bella combinazione Sensi Caputo che ci aveva spalancato il campo per attaccare la trequarti milanista nell'occasione in cui se vi ricordate al venticinquesimo è stato ammonito Romagnoli per l'intervento in ritardo su Caputo quindi Torsby ovviamente rimane un giocatore un fattore per questa squadra però nel momento in cui c'è da gestire il pallone questo ovviamente lo sapevamo già ma oggi si è visto parecchio rischia di diventare un punto debole Murru anche non è stato funzionale e ho notato una cosa nella prestazione di Murru che è stato discreto in fase difensiva ha detto che sia Murru sia Ugello hanno perso il duello con un Calabria in forma assolutamente smagliante che li ha venti tutti attaccando e difendendo soprattutto quando c'era da difendere Murru nel primo tempo secondo me finché è rimasto in campo ha sbagliato la postura il posizionamento di quando si proponeva per ricevere riceveva sempre palloni con il corpo già messo di spalle alla porta pronto per essere attaccato e quindi non poteva in nessun modo essere pericoloso l'unica giocata che gli veniva disponibile era eventualmente il passaggio all'indietro ma quel tipo di ricezione lì è il modo migliore per farsi attaccare per perdere palla se va bene guadagni un calcio di punizione è entrato Ugello nel secondo tempo partita avventurosa anche per lui nel senso che non è riuscito a mettere palloni in mezzo e probabilmente anche lui psicologicamente è colpito dal fatto di aver per ora perso la titolarità a favore di Murro Conti a destra nel primo tempo se Murro veniva incontro Conti ha provato di più ad attaccare la profondità ad allungare Florenzi da quella parte però di fatto non c'è riuscito siamo abituati a vedere la catena di destra Beresinski Candreva oggi a volte abbiamo visto tre giocatori da quella parte anche con Conti ma di buono non è uscito granché nel secondo tempo dopo una decina di minuti scarsi non è variato il modulo ma è variata la composizione del centrocampo evidentemente Ekdal non ha ancora i 90 minuti ne ha una mezz'oretta e questa frazione di tempo gli ha fatto giocare Giampaolo nel secondo tempo interessante la scelta di mettere contemporaneamente Ekdal e Vieira allargando Candreva che ha fatto quindi il quinto a centrocampo e mettendo una mediana fatta esclusivamente di palleggiatore registi comunque centrocampisti centrali puri questo ha permesso alla Sampdoria di mettersi un po' più comoda sul prato di San Siro nel controllo del pallone si abbassava ancora Sensi quindi abbiamo visto dei momenti in cui la Sampdoria ha fraseggiato via via però la squadra si è anche un pochino allungata fatalmente per provare a infastidire il Milan anche nell'ultimo terzo di campo cosa che ripeto non è riuscita e anzi la squadra che è andata più vicino a segnare nel secondo tempo è stata il Milan che ha avuto delle ripartenze in cui ha superato facilmente la linea del centrocampo della Sampdoria anche perché Ekdal non mi è parso entrare benissimo in partita ha provato a mettere un po' di palleggio di qualità ma ha perso anche un paio di palloni pesanti ha sbagliato qualche scelta è evidente che questo giocatore serva la Sampdoria oggi ha fatto un po' ha avuto difficoltà a mettersi nel clima della gara che appunto è rimasta aperta fino alla fine il Milan senza soffrire senza graffi senza problemi per Mignan l'ha portata a casa da squadra matura che però va detto insomma arrivava con grande entusiasmo perché aveva vinto il derby aveva vinto in Coppa e forse anche questo ha inciso la partita di mercoledì se non sbaglio otto undicesimi erano gli stessi della squadra che ha asfaltato la Lazio mercoledì in Coppa Italia mancava Teo Hernandez e questa è chiaramente una assenza pesante per il Mina probabilmente sarebbe stata una partita ancora più difficile per la Sampdoria ultima nota abbiamo anche visto esordire in maglia di lucerchiata Abdelhamid Sabiri curiosamente messo da Giampaolo negli ultimissimi minuti di gara da trequartista spostando Sensi in mezzala Sabiri non ha avuto palloni giocabili per farci capire le sue qualità e la sua eventuale utilità nel contesto blucerchiato l'abbiamo visto staccare un paio di volte di testa ha vinto un paio di duelli aerei sui palloni lunghi che arrivavano da Falcone quindi Sampdoria diciamo rimandata risultato negativo ma era vagamente preventivabile la prestazione c'è stata non ho sentito ancora le dichiarazioni di Giampaolo ma secondo me ovviamente c'è ci sono cose da migliorare ci sono delle assenze pesanti perché come sapete non c'è raggio vinco ancora disponibile è un giocatore che può aggiungere chiaramente qualcosa e soprattutto imprevedibilità alla fase offensiva blucerchiata questo è stato il grande assente la parte gravemente insufficiente della Sampdoria San Siro è stata l'incapacità di rendersi pericolosa dalle parti di Mike Mignan grazie per essere arrivati fin qui alla visione all'ascolto di questo video aspetto i vostri commenti qui sotto grazie a tutti